Riccardo, dopo aver avuto una distorsione di caviglia un po' di tempo fa, ha deciso di intraprendere un percorso dal fisioterapista per riprendere la funzionalità della caviglia. Quindi oggi gli diamo una mano, dopo aver fatto la fasciatura, per fare gli esercizi in maniera migliore possibile. Il primo esercizio che andiamo a fare quest'oggi è un lavoro eccentrico direttamente sul polpaccio, ma che lavorerà anche sulla propriocezione della caviglia. Quindi in questa posizione saliamo sulle punte, tutte e due, stacchiamo il piede sinistro e scendiamo col destro, bravissimo. Poi riposi il sinistro lì, oddio, vai, posa il sinistro lì, bravissimo, ritorna sulle punte e lo rifacciamo, vai. Su, stacco il sinistro e scendo, vai scendi, 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 bravissimo. Ovviamente oltre per la distorsione di caviglia, questo è un esercizio che va a lavorare sulla forza eccentrica del tricipite dell'asura e del soleo.